L'informazione è un bene pubblico. È stato il tema al centro del dialogo tra due volti iconici e pluripremiati del panorama giornalistico italiano, Sigfrido Ranucci e Giovanna Botteri, che hanno inaugurato la ventitresima edizione dei Dialoghi di Trani, la rassegna culturale che ha avuto inizio in Piazza Quercia a Trani. Con loro il responsabile della redazione di Repubblica Bari, Domenico Castellaneta, insieme sul palco per accendere i riflettori sulla libertà di informazione e di stampa. Io credo che sia importantissimo per chi legge, per chi segue, essere informato, sapere quello che sta succedendo. È importante informare e informare bene, dare a tutti gli elementi per capire il momento complesso, complicato che stiamo vivendo. Questa è la libertà di informazione. È qualcosa che non riguarda noi che la facciamo, ma che riguarda chi ha bisogno di vivere in democrazia e di esercitare il suo diritto di cittadino in democrazia. Il problema degli organi di informazione e il problema dell'editoria è che oramai si sta concentrando in gruppi e ogni gruppo editoriale ha i suoi interessi. All'interno di questo è possibile continuare a fare un'informazione libera. Questa è la sfida, questa è la sfida nostra in questo momento. Al di là delle tendenze dei governi, al di là dei gruppi editoriali a cui appartieni, riusciamo ad essere indipendenti, riusciamo davvero a raccontare i vinti e i vincitori da una parte e dall'altra delle barriere dei confini. Questo per noi in questo momento è la grande sfida. A tal proposito, in occasione della giornata mondiale della libertà di stampa, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e celebrata ogni anno il 3 maggio, l'UNESCO ha ricordato che l'informazione libera nasce quando è garantita l'indipendenza dei media. In virtù di questa autonomia, il giornalismo investigativo può contribuire in maniera cruciale allo sviluppo di una coscienza più critica. Credo che l'indipendenza sia uno stato dell'anima, cioè l'occellaio non te la dà nessuno e devi difenderla comunque dagli continui attacchi. Questo è un momento complicato per l'informazione, indubbiamente. Noi abbiamo la presunzione di vivere nella culla della civiltà, l'Europa, ma che negli ultimi cinque anni ha visto morire dei giornalisti, cinque giornalisti, Daphne Carona Galizia, uno in Olanda, De Vrij in Olanda, uno in Grecia, due nell'est Europa che sostanzialmente indagavano sui rapporti tra la criminalità organizzata e la politica, sono stati uccisi e ancora oggi non sono stati trovati colpevoli. Ci sono 270 giornalisti che sono sotto tutela per il tipo di lavoro che fanno, 22 sotto scorta, abbiamo il record mondiale di politici che hanno denunciato i giornalisti, ci sono tutta una serie di leggi liberticide che sono state approvate e che vanno verso una sorta di obbligo di Stato. Bisognerebbe che ciascuno di noi difendesse quella quota di libertà e quel diritto inalienabile che è la libertà di stampa. Un Paese che non ha la libertà di stampa è come una macchina che gira senza il certificato di garanzia.